Buonasera, sono Ettore Bassi. Alle mie spalle state vedendo scorrere immagini di backstage. Nei film, come nelle fiction, ci sono scene che richiedono l'uso di effetti speciali, spesso utilizzati per simulare eventi difficilmente realizzabili in maniera tradizionale, o perché troppo costosi o pericolosi, o semplicemente perché contrari alle leggi della natura. Investire in nuove tecnologie vuol dire stare al passo con i tempi. Per questo All'Italia ha investito in 90 nuovi aeromobili Airbus 320.